In tante parti si sentono gli effetti, uno degli effetti di questa pandemia, che tante famiglie che hanno bisogno fanno la fame. E purtroppo gli aiuta il gruppo degli usurai. Questa è un'altra pandemia, una pandemia sociale. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero, purtroppo lavoro in nero, non possono lavorare e non hanno da mangiare. Con figli. E poi gli usurai che li prendono il poco che hanno. Preghiamo, preghiamo per queste famiglie, per tanti bambini di questa famiglia, per la dignità di queste famiglie. E preghiamo anche per gli usurai, che il Signore tocchi il loro cuore, si convertano.